E giustamente Sergio Cofferatti in questi giorni dice ma come potete rimproverare il sindacato di non aver fatto proposte se dopo la famosa manifestazione dei 3 milioni di persone abbiamo fatto una proposta organica di revisione dello Statuto dei Lavoratori e l'abbiamo portato in Parlamento con 5 milioni e mezzo di firme. Allora c'è una latitanza della politica, io lo dico senza mezzi termini.